Parte da Firenze la prima campagna delle città d'arte Regalati Firenze come non l'hai mai vista, il progetto messo a punto da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana in sinergia con il Comune di Firenze e Destination Florence Convention and Visitors Bureau nell'ambito della campagna Rinascimento Senza Fine. Firenze come Roma e Venezia è una destinazione a forte tasso di internazionalizzazione, il 73% delle presenze è la componente straniera e ha dunque particolarmente sofferto l'impatto della pandemia da Covid-19, l'accelerazione della campagna vaccinale in Europa e i passi in arrivo consentono di intravedere una riapertura del turismo europeo e la Regione parte subito con una campagna dedicata al capologo toscano rivolta proprio ai viaggiatori continentali. Beh intanto è la campagna toscana Rinascimento Senza Fine che voi sapete ha sette temi di viaggio, uno dei sette temi è le città d'arte e in particolare va aiutata Firenze alla ripresa perché è sicuramente la destinazione della Toscana che ha sofferto di più. Come non l'ha mai vista proprio perché è una Firenze di tutto inedita, di cui anche noi residenti delle volte apprezziamo la stadionale è una bellezza in questi luoghi sicuramente molto meno frequentati di prima. Grazie alla nostra piattaforma e al nostro essere un consorzio abbiamo radunato tutta la filiera turistica e sul marketplace, sul portale Destination Florence abbiamo messo in vendita camere di tutte le fasce dalla 2 stelle, 4 stelle e 5 stelle a tariffe particolarmente vantaggiose.